Il progetto Elba 2035 è un'iniziativa molto importante per l'isola d'Elba, sia per il sempre maggiore interesse verso il tema della sostenibilità, sia per la necessità di pensare ora alla visione del futuro e alle azioni da effettuare per poterlo realizzare compiutamente. A mio avviso la sostenibilità deve avere a cuore l'ambiente, ma deve inserire nell'equazione anche l'uomo, che può e deve godere dell'ambiente in maniera responsabile, ma senza negarsi la possibilità di vivere a contatto con la natura. Per l'isola d'Elba va calcolato e migliorato non solo l'impatto ambientale negativo per mitigare i punti di debolezza, ma anche l'impatto ambientale positivo, ossia il contributo positivo per l'ambiente che l'Elba costantemente genera, anche ora, attraverso la sua flora, il mare, l'ecosistema marino, eccetera. Oltre alle buone pratiche di tutte le attività e dell'eredità virtuose dell'Elba, quale ad esempio outdoor e sport, alimentazione, parco nazionale dell'arcipelago toscano, santuario dei cetacei, mab unesco, panorami eccezionali, luogo poco affollato e benvivibile, e così via. E va calcolato di conseguenza il bilancio di impatto ambientale complessivo, che tenga conto di tutti questi aspetti. Il turismo, in quest'ottica, può essere un valido strumento di trasferimento delle pratiche positive di sostenibilità elbana, per consentire ai turisti interessati di apprendere nuovi comportamenti virtuosi e di portare a casa con loro nuovi modelli positivi di qualità della vita.